Qua stai procurando una sgarraffa fra me di gamba di Pernice 90 Gamba di Pernice? Ah, il 97 non chiuso vendere direttamente nessuno 90, 90 Eh? 90 90, sì Qua cosa ci sono? Tutte le bottiglie di cosa? Questa è la gamba di Pernice più vecchia e capo al re Sauvignon, 99 99 anche Tutta questa è la gamba di Pernice Non c'è né l'etichetta che ho E il tuo pensiero è andato bene? Sta vendendo bene? Sì, piace Piace molto sì perché ho portato in Brasile piace Sì Solo un problema, pesa Pesa tanto perché Eh, pesa Un tiro e mezza bottiglia E stai scogliendo ora la sgarraffa di gamba di Pernice 90 che non hai né l'etichetta, ne vai colocare E guardando le ruote le migliori Per poter me Entregar Lì sta Colocando le tachette di Chardonnay Ti aiuto? Non ho O ce la fai? Ce la fai? Sei ancora atletico, no? Sì Quattro gradi ti fa? 12 gradi? Sì Non è tanto 12 né? Sì